Patrizia Perissinotto, 68 anni. Sono pensionata da tre anni, prima ero la direttrice dell'ufficio postale del paese. Mi sono candidata per il comune di Rogeno e guida una lista civica chiamata Uniti per Tutti. Il luogo del cuore è il lago dove da decenni vivo, che divido a pari merito con la zona dell'area mercatoria, situata al centro del paese. È lo stesso luogo scelto per fare la foto di gruppo dei candidati, proprio per dare un senso di unione tra i due centri più grandi del paese. Le nostre priorità sono tanti, però noi abbiamo puntato sull'attenzione e nei vari argomenti abbiamo scelto. L'attenzione al sistema sociale nella sua complessità, cioè sostenere nuclei familiari, favorire l'inclusione e programmare e creare un luogo per gli anziani. Secondo, l'attenzione all'etica ambientale e ai beni culturali, cioè riqualificare e mantenere l'ecosistema del lago e recuperare il patrimonio comunale. La terza attenzione è la trasparenza amministrativa e il bilancio partecipato, informando con canali diversi i cittadini sulle scelte messe in atto. La gente deve sapere che credo nell'importanza della cosa pubblica e che voglio mettermi al servizio dei cittadini e della collettività, offrendo il mio contributo sempre trasparente e disinteressato per fare di Rogeno un ambiente più vivo, unito e sicuro. Impegni che affronterò con entusiasmo e senso di responsabilità nei confronti di tutti. Grazie 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 Grazie